bene allora pensa ci sarà subito vai potrebbe essere di qua adesso scusate se ci metto un po' ma mi devo ricordare dov'è l'elicottero non mi ricordo però tanto vale provare no questo è al porto parca troia non è questo che voglio fare io vabbè facciamo questo qua prima dai ah no è giusto brutta bestia è giusto e li porto le azzeccate non serve il coso bene adesso c'è la kirk ma dove sto andando dove sto andando ah ho capito io dove sono no no girati idiota scusate gente devo prendere un altro treno qua ah bestia non capisco perché ma ma che sto facendo avanti andrea perché se no mi sembra tanto un idiota ne penso eh lo sto pensando lo sto pensando che violenza allora ragazzi sono munizioni granate sì perché ne servono sei adesso allora 12 forza questo è il primo che non è il primo ma è il terzo no il primo è quello normale dove passi dove dicono loro questo è il terzo poi c'è il secondo che è nell'altro overcraft chissà perché loro camminano e quello lì prima che arriva con calma fa ha visto regina 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 Amore mio, eh si eh, non andai amore mio, ci troverò, ci vado a tremasi io, si è, e adesso devo spararli, ma parla, idiota di una regina pirla, no parole, no 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 no, buoio, no, finito, finito, ed ecco voi il terzo finale, perché io non vado come primo, secondo, terzo, io vado terzo, secondo primo, ovviamente l'elicottero ha una bomba giù, no, ovvio, regina, regina Amore! Ecco, ecco questo, questo è il finale in cui ci sono lei, Gail, Rick e il dottor Kirk, vivi, poi c'è il finale dove c'è lei, eh, Kirk e Rick e il finale dove c'è Gail, Kirk e Rick Gail, Regina e, sì scusa, in uno crepa il negro e nell'altro capa il biondo, no, no, Rick è sempre vivo, perché non c'è allora? Ho sbagliato io a parlare? C'è una mazza, vabbè chi se ne frega, comunque c'è un finale, eh? Adesso voglio vedere quanto ci ho messo, troppo poco, no, troppo forse, è vero, tra la telefonata e... Eh, ci mancava la telefonata che mi ha allungato, poi io che dovevo andare in bagno, le pausa di questo, le pausa di quello, le palle, Eh, che bello, gioco dei bombini elementari, spara e basta! Non bisogna comprendere, bisogna sparare e basta, olè! Vabbè, mu! Sì, tuo moto! Vedi, questo qui era il secondo finale. Questo è quello che abbiamo fatto adesso. E... Questo qui, aspetta! Questo è il primo. Ho paura! Che c'è mi cambia? Perché ho fatto un residente in tivolo e io devo mai criare. No! Sì! Ho mai detto? Eh, non è che tutti sassano. You have maile. Acora! The final report of Operation Dr. Kirk. Agent Regina. Regina. Dr. Kirk, status, recapture. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Gale. Stalus. Alar. Gale did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Ah, lui, è sempre vivo. Sto stronzo non fa mancazza. Eh, ci mancherebbe altro! Che che sta parlando, se? Minchia, riposati. Stalus. Deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabited the island. He will be missed. Cooper! Cooper! Stalus! Ah no! Stalus! Unno! Che cazzo ne so! We lost contact with Cooper at the beginning of the mission. I have not heard from him since then. Mission complete! Vediamo. Troppo! 2 a 5, ma... È tantissimo! Cosa c'era? 6 minuti in più! Bastarda chiamata, bastardi tutti, morite! Sai che comunque... Sai, se togliere la chiamata, più i tempi, l'intervallo... Che testa di cazzo! Cosa c'era? Cosa c'era? Allora... Quando salvavi e quando parlavi... Aspetta che forse... Aspetta... Ti prego, ti prego, ti prego... Eh grazie... Lo so... Boh... Allora ci vediamo ai prossimi finali... Addio gente! Stoppa Paul! Addio, no, badio, no!